Anche oggi questa maggioranza ha dato il peggio di sé, la seduta inizia dopo due ore, è stato completamente stravolto l'ordine dei lavori, non si sono votate le delibere ma bensì le mozioni che sono gli atti di indirizzo meno importanti, questa maggioranza è stata capace di spaccarsi anche su degli atti di indirizzo come le mozioni e quindi alle 12.40 la seduta è stata chiusa e rinviata al giorno successivo. Questa è una maggioranza che dovrebbe governare la città di Roma. Grazie